Casale Vittoria è una location suggestiva, accogliente e immersa nel verde di un grande parco. Le proprietarie vi riceveranno in questo posto magico dedicandovi tutta l'attenzione necessaria per organizzare, insieme a voi, un matrimonio da ricordare per sempre, come il più bello e originale. Casale Vittoria si immerge in un grande parco esterno dove, nei mesi più caldi dell'anno, è possibile allestire un sontuoso banchetto per i vostri ospiti che conferirà una cornice campestre al vostro evento. All'interno, uno splendido salone dall'atmosfera rurale, incorniciato da antiche capriate in castagno e caratterizzato dalla presenza di un grande camino, sarà il luogo perfetto per organizzare il vostro matrimonio, magari in inverno o in caso di pioggia. Il servizio di wedding planning offerto da Casale Vittoria vi aiuterà nell'organizzazione del vostro matrimonio, fornendovi preziosi consigli circa la scelta del tema, degli allestimenti, della musica e di ogni altro dettaglio che riterrete necessario per la perfetta riuscita dell'evento. Casale Vittoria è anche specializzato, grazie alla collaborazione di chef altamente qualificati, in menù vegani e vegetariani, ricchi e originali. Buffet strepitosi, composti da pietanze prelibate e da materie prime del territorio, rallegreranno gli animi dei vostri invitati, facendo vivere loro una giornata ancora più memorabile. Grazie a tutti.